Un percorso da individuare per favorire la ricollocazione dei 69 ormai ex lavoratori dello zuccherificio del Molise. Di questo si è parlato nella riunione che il presidente Paolo Frattura ha tenuto a Palazzo Vitale insieme agli assessori Vittorino Facciolla e Carlo Veneziale. Una nutrita rappresentanza di operai ha ascoltato le parole del governatore chiedendo però impegni concreti al punto da far aggiornare l'incontro già la prossima settimana. La discussione si è concentrata sulle misure che il governo sta mettendo a disposizione per favorire il reinserimento nel mondo del lavoro, quelle che insomma i sindacati chiamano politiche attive. Tre le opportunità prese in esame, l'incentivo all'autoimpiego, il bonus fiscale per le aziende che assumeranno gli ex dipendenti dello zuccherificio e infine quello che in gergo viene chiamato scivolo per chi è vicino alla pensione. Sarebbero pochissimi gli interessati ad avviare un'attività in proprio e risicati anche i margini per quelli vicino alla pensione. La stragrande maggioranza insomma andrebbe ricollocata. Ma dove? È la prima domanda. E ancora poi, in cosa si concretizzi il bonus fiscale non è ancora chiaro. Frattura ha assicurato che la regione farà la sua parte. Si è parlato anche delle quote che lo zuccherificio ha ancora a disposizione fino a settembre del 2017, prima della liberalizzazione del mercato. Si poteva fare ancora una mini campagna allora? Ma come? Si sono chiesti tutti se i macchinari sono stati venduti all'asta. Le quote si possono ancora affittare? Alla suzuccher magari, come è stato fatto negli ultimi anni? Ma chi se ne dovrebbe occupare, visto che la SPA è fallita e la SRL ha cessato la sua attività? Tutti questi interrogativi per ora restano senza risposte.